Un piano di lottizzazione ecosostenibile che punta alla riqualificazione dell'area sud di Bari, connessione del rione Iepigia, litorale in vista dell'eliminazione dei binari con la variante al collo d'oca, arretramento delle edificazioni con riduzione di volumetrie e altezze e un parco urbano unico sul mare. E' il nuovo progetto presentato a marzo scorso al Comune dal Consorzio Parco Perotti, di cui fa parte anche la matarese S.P.A. rientrata in possesso dei suoi terreni, una superficie di 100.000 m2. Partiamo dal parco, affacciato oggi su una strada a quattro corsie e senza servizi. La parte finale sarà preservata, anzi allargata, abbracciando quest'area incolta e spostando il lungomare Traiano con una curva d'Elle. Verrebbe spostato anche il ponte, creandone uno ciclo pedonale. Case e uffici da costruire con cortiglie e parcheggi interrati avranno altezze ridotte del 25%, non superiori ai 35 metri, circa 10 piani quelle parallele ai binari, evitando così la chiusura della visuale e in linea con gli edifici esistenti e ai 27 metri sulla fascia più vicina al mare. Questa porzione di fronte alla chiesa San Sabino verrebbe lasciata a disposizione del Comune, magari insediando il park and ride o altro, per creare un parco sul mare largo 150 metri adrizzando la strada fino a Torre Quetta. I matarese attendono da circa un anno la convocazione della conferenza dei servizi con tutti i soggetti interessati. Al Comune è in corso l'istruttoria. Si valuta la conformità del piano alle norme in vigore, si valutano aspetti anche paesaggistici e ambientali che però in questo caso richiedono il parere della sovrintendenza.